Sì! 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 De vincentis! De vincentis! De vincentis! La situazione è grandissima però soprattutto per la seconda cosa che hai detto, cioè il fatto di aver trovato la seconda vittoria consecutiva in casa, quindi tra le mura amiche. Siamo contenti, contentissimo per il gol, però ripeto, la vittoria serviva, serviva per la classifica, per il morale, quindi siamo contenti. Speriamo di continuare così. Sì, 12-10, poi abbiamo avuto delle distrazioni in attacco, qualche giocatore con tre espulsioni come Holden, hanno trovato il pari a pochi secondi dalla fine, però noi avevamo ancora un time-out, quindi Coach Castelli che sostituiva Mister Di Fulvio per l'espulsione, ha chiamato time-out, siamo andati in attacco con il portiere, e poi sono rimasto solo e hanno lasciato me da due. A un secondo dalla fine ho tirato, è andata bene, siamo contenti così.